Un intervento atteso da anni che nei prossimi mesi vedrà finalmente la luce. I fanghi del porto di Fano, dragati nel 2008, sono ancora nell'area ex Fantasy World a Torrette, ma verranno trasferiti. Lo ha annunciato ieri l'assessore regionale Stefano Aguzzi, che aveva seguito la vicenda come primo cittadino. Rispondendo a un'interrogazione del consigliere Giacomo Rossi, Aguzzi ha comunicato il procedimento. D'assessore regionale ha detto, vigilerò affinché la soluzione avvenga nei tempi previsti e nel miglior modo possibile. La vicenda va avanti da moltissimi anni, dal 2008 addirittura, ma veniamo a tempi più vicini. Nel 2012, per garantire l'accessibilità al porto di Fano, quando io ero sindaco portavamo avanti un'iniziativa che era inedita, ma è venuta prima, cioè i fanghi del dragaggio del porto, che non avevano più spazio all'interno del porto come deposito, e portavamo su un'area di proprietà comunale, appunto l'ex Fantasy World a Torrette. Ci furono anche molte polemiche all'epoca, perché si temevano delle ripercussioni dal punto di vista ambientale, che invece non ci sono state ovviamente. E da allora i fanghi, anno per anno, aspettavano di essere portati nella Cassa dei Colmati in Ancona. Parliamo del 2012, appunto, siamo nel 2020, sono passati otto anni, quindi non solo non è riuscito io all'epoca come sindaco portarli in questa Cassa di Colmati, ma non riuscì neanche l'amministrazione successiva per vari anni, eccetera. Oggi finalmente abbiamo in Ancona la Cassa di Colmati completata e collaudata nel 2018. Siamo attualmente in fase di gara di appalto, alla quale hanno già partecipato tre ditte, si sta costituendo la commissione giudicatrice, cosa dovrà fare la ditta che vincerà questo bando? Dovrà fare il trasporto di questi fanghi, non solo da Fantasy World, ma anche dall'interno del porto di Fano, dove c'è un'altra parte depositata, e dall'interno del porto di Numana. Quindi tutti questi fanghi che sono stati depositati temporaneamente, diversi anni fa, saranno portati finalmente nella Cassa di Colmati in Ancona. Quindi si chiuderà questa vicenda, a me è quello che fa piacere e la casualità vuole che questo deposito avvenne quando io ero sindaco e allora garantimmo la navigabilità del porto di Fano in maniera eccezionale e ci riuscimmo, e oggi il caso vuole che da assessore regionale, diciamo, contribuerò a portarli finalmente nella Cassa di Colmati. Una vicenda che si concluderà felicemente nei primissimi mesi del prossimo anno.